City Farmers, un arto giardino condiviso. È un grande spazio di 7600 metri quadri in viarda, nato grazie ai cittadini che lo hanno immaginato e realizzato sotto la guida di professionisti. Abbiamo avviato questo lungo progetto che è complesso, particolare, bello, partecipato. Perché? Perché siamo partiti da zero. Siamo partiti da zero ovviamente agganciandoci a quello che è il mandato del sindaco. Ovvero una progettazione partecipata, è stato poi definito il progetto condiviso, sono state realizzate tutte le opere base, è stato attivato il cantiere di partecipazione, sono stati fatti gli incontri informativi e poi gli incontri sulle regole di adozione dell'area. L'amministrazione ci crede fortemente, crede fortemente che per i temi della sostenibilità si debbano concretizzare e attuare e vivere soprattutto, si debbano vivere giorno per giorno. Quindi diventa una palestra, diventa una palestra oltre che un luogo d'incontro, diventa qualcosa che si trasmette ai giovani, alle nuove generazioni, diventa un'esperienza nuova per chi magari ha sempre desiderato, ma non ha come proprietà privata, vive in un appartamento, non ha la possibilità di coltivare la terra, ma ha sempre desiderato farlo. Quindi è uno dei primi progetti che nascono in questo senso e sicuramente non l'ultimo. Riportiamo tra l'altro e valorizziamo anche la biodiversità locale con questo progetto attraverso l'oase di cui vi dicevo prima, che è composto da varie sezioni. E poi soprattutto è un progetto da vivere, da vedere, perché parlarne non rende l'idea.